Buonasera, io fornisco software gestionale, ovvero tutti quei programmi che utilizzate tutti i giorni nelle vostre aziende per far funzionare i vari processi, dalle vendite al magazzino alla produzione, alla contabilità, al controllo di gestione e al recupero credit, tutte queste cose che sapete benissimo. Lavoriamo da tanti anni con questi due marchi, in realtà all'inizio abbiamo lavorato con Esa Software, che è stata l'azienda che ha creato un software gestionale in Italia, che è stata recentemente acquisita dal gruppo Team System, quindi in questo momento siamo lavorati con questi due marchi. Siamo una ventina di persone, veniamo tutti i giorni presso le aziende a fornire le nostre soluzioni con formazione, con sviluppo di progetti, personalizzazioni, con versione degli archivi del gestionale precedente, eccetera. Cerchiamo di fare sempre il nostro meglio per far funzionare le aziende, siamo in crescita da tanti anni e quel marketing system, che vedete, è una cosa che mi fa un po' fettire. Abbiamo sempre cercato di non lavorare con questo tipo, ma siamo costretti a lavorare, però prometto che il giorno che potrò trovarvi, io avrò questo tipo di studio.